Costritti ad annullare il tradizionale convegno diocesano a causa dell'emergenza Covid-19, la diocesi di Vallo della Lucania, presieduta da sua eccellenza Monsignor Ciro Miniero, affida la conclusione del cammino sui cinque verbi del convegno nazionale di Firenze alla forania Cilento Castellabate. Venerdì 26 giugno a partire dalle ore 18.30 i delegati foraniali saranno chiamati a confrontarsi sul verbo annunciare. L'evento, con numeri più ristretti rispetto al consueto incontro diocesano, cambia dunque location. Dal teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania si passa al complesso Santa Scolastica di Santa Maria di Castellabate. Tra gli interventi in programma i saluti del responsabile foraniale Don Roberto Guida, a seguire la riflessione di Don Gianluca Cariello e in conclusione l'intervento del vicario episcopale Monsignor Giovanni di Napoli.